Arresti, perquisizioni ed un centinaio di militari dispiegati su tutto il territorio con elicotteri e reparti speciali. E' questa la risposta dello Stato alla lunga serie di attentati che nelle ultime settimane hanno colpito i commercianti della città di Foggia. All'operazione, denominata Corus, hanno preso parte polizia, carabinieri e guardie di finanza, il risultato di un'indagine lampo coordinata dalla procura del capoluogo Dauno. 16 le persone finite in manette nel corso del blitz eseguito all'alba di questa mattina all'esito di 5 differenti inchieste sulla criminalità foggiana. Tra queste, 4 affiliati al clan Moretti, arrestati con l'accusa di aver pianificato l'omicidio di un elemento di spicco del gruppo rivale, quello dei sinesi Francavilla. L'agguato era stato programmato per il 23 gennaio come vendetta per la morte di Rodolfo Bruno, ucciso il 15 novembre scorso. Un'azione criminale sventata dalla polizia, che riuscì ad intercettare il comando di fuoco, composto da tre persone, prima che potesse entrare in azione. Altri tre arresti sarebbero direttamente riconducibili ad un attentato di namitardo e due incendi ai danni di attività commerciali della città, la frigitoria Mordi e Gusta e la profumeria Gattullo, avvenuti nei primi giorni di gennaio, oltre che ad alcune richieste estorsive. Nell'ambito della stessa operazione, altri 4 foggiani sono stati raggiunti da ordinanze di custodia cautelare per detenzione di armi. In carcere, infine, anche i tre presunti autori di due rapine ad un bar ed una tabaccheria di Foggia e due viestani accusati di possesso di esplosivo. Sono quattro gli attentati registrati a Foggia negli ultimi dieci giorni, sette dall'inizio dell'anno. L'ultimo risale al 30 gennaio, quando un ordigno era stato fatto esplodere davanti all'ingresso di un punto vendita Euronix, nota catena di rivenditori di elettrodomestici. Cinque giorni prima era toccato ad un emporio di articoli per la casa, gravemente danneggiato da una bomba piazzata davanti alla Saracinesca. 48 ore prima era stata la volta di un negozio di prodotti per parrucchieri, finito già in passato nel mirino dei clan. Soddisfatto per l'operazione condotta dalle forze dell'ordine, il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che ha commentato così la notizia degli arresti odierni. Anche a Foggia si dimostra che lo Stato si fa rispettare In Capitanata, la quarta mafia ha preso una bella botta. Oggi è sicuramente un bel giorno.